Buonasera Davide. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Grazie che hai voluto insomma condividere anche con noi e con i nostri telespettatori quello che è stato un lavoro molto molto bello di cui adesso daremo tutte le specifiche. Ricordo che sei consulente informatico e sviluppatore di applicazioni. E' proprio di un'applicazione, noi questa sera parliamo, un'applicazione che è stata voluta dalla provincia di Como che ha commissionato il lavoro dunque e tu l'hai realizzato in quanto sviluppatore. Applicazione che si intitola Razionalismo in provincia di Como. Ci puoi introdurre un po' come è nato questo progetto? Sì, volentieri. Si tratta di un itinerario multimediale tra le principali architetture razionaliste del nostro territorio, il territorio lariano. E' un'applicazione che per ora è per iPhone e per iPad, scaricabile gratuitamente. Ok. Ti anticipo che arriverà presto la versione anche Android per tutti coloro che ce lo chiedono insomma. Quindi bisogna avere un po' di pazienza ma arriverà anche per loro. Esattamente, esattamente. In sostanza, concettualmente è come un'audioguida. C'è un percorso di circa 40 minuti in tre lingue, italiano, inglese e tedesco, attraverso appunto il nostro territorio, da Como, i principali edifici del quartiere razionalista, fino a Cernobbio, dove c'è la casa Cattaneo, l'archivio Cattaneo, fino all'area della Trebezzina, con le case per artisti sull'isola Comacina, Villa Leoni, Villa Mila, Villa Silvestri, che sono i gioielli di quell'area, in buona sostanza. Noi stiamo guardando alcune anche fotografie, poi vedremo dal vivo l'applicazione, perché molte persone pensano che il razionalismo comasco si fermi un po' alla città di Como. Invece c'è una bellissima cartina di tutto il nostro lario e effettivamente è tutto mappato, perché si va anche un po' più verso nord, per avere una formazione completa sul razionalismo della provincia. Sì, diciamo che il percorso vuole valorizzare questo percorso di insieme da Como fino, in questo caso, all'area della Trebezzina. I gioielli sono, sia da una parte che dall'altra, non è necessario iniziare il tour da Como, è possibile fare benissimo dall'area della Trebezzina e poi spostarsi lungo il ramo occidentale fino alla nostra città. Davide, è vero che è un progetto comunque voluto dalla provincia di Como. Tra l'altro questa applicazione si inserisce all'interno del progetto Ecolarius, di cui vorrei fare due parole, perché almeno per completezza di informazione contestualizziamo. Sì, sì, volentieri, perché mi diano l'occasione per ringraziare il settore cultura della provincia di Como che è capitanato dal dottor Musconi, perché hanno creduto in questo progetto. Si parla tanto di valorizzare i nostri beni, i nostri tesori attraverso nuove tecnologie. Ecco questo, è una dimostrazione che si può fare in buona sostanza. È vero. Per tornare alla tua domanda, Ecolarius è un progetto complesso che include diversi interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio, dei beni culturali. Mi viene in mente ad esempio la posa del ponte del chilometro della conoscenza, che è una delle azioni, la futura realizzazione dell'ecomuseo a Tremezzo, la villa bolivianina. Insomma, a parte questi progetti di recupero, ci sono anche, per quanto riguarda la parte informatica, dei progetti di fruizione del patrimonio. La provincia in particolare ne sta curando tre, un portale web dedicato ai magistri Comacini, poi ci sarà un sistema multimediale in supporto alla multimediateca, che sarà operativa nell'ecomuseo, di cui parlavo prima, a Tremezzo, e questa azione dedicata al circuito del razionalismo, con l'applicazione in sostanza. Io lo anticipo, poi lo ricorderemo, perché dobbiamo invitare tra l'altro tutti a scaricarla, Comaschi e non, perché è una visita virtuale pazzesca. Intanto quello che vediamo è il sito dove avere maggiori informazioni, che è www.razionalismo.albegor.com E ricordo che, come dicevi tu, per ora si può andare nell'App Store di iPhone, iPad, e inserire semplicemente Razionalismo, effettivamente è la prima cosa che vi viene suggerita, vero? Sì, sì, per scaricarla è sufficiente. Per chi ha un dispositivo di Apple, come un iPad o un iPhone, basta che cerchi la parola Razionalismo e la trovi immediatamente. Eh sì, è semplicissimo, anch'io l'ho scaricato, anzi, sto perfezionando l'inserimento, perché ho bisogno di una rete Wi-Fi, perché comunque essendo molto ben costruita, un po' grande, dicevamo, c'è bisogno di essere collegati, voglio dare questa informazione tecnica, visto che l'ho vissuta anch'io. Però partiamo dicendo che, insomma, l'hai detto tu, è un'audioguida sostanzialmente. C'è un racconto in tre lingue, le voci come sono state scelte? Sì, hai detto bene, il concetto è l'audioguida, però, diciamo, è arricchita da più di 250 foto provenite dai diversi archivi di architetti, Terragni, Cattaneo e Lingeri, per cui va al di là di una classica audioguida. Le voci sono la parte, diciamo, forse fondamentale del prodotto. L'ho scelta personalmente, facendo una sorta di casting, è vero? Diciamo così, tra diversi professionisti, in cui sono diversi professionisti. Quali dovevano essere i requisiti che poi hanno fatto aggiudicare la voce ufficiale dell'app? Beh, senz'altro l'esperienza nella produzione di documentari, spot televisivi di stile documentaristico, comunque applicazioni di questo tipo. In buona sostanza, una voce impostata in grado di leggere un testo, diciamo, in questo caso dedicato all'architettura. Ma vogliamo farla sentire già un pezzettino, poi continuiamo a parlare, però almeno entriamo proprio, visto che tu ci hai portato gentilmente un tablet dove è già stata scaricata l'applicazione. Ecco, questo sarà un po' quello che vi troverete anche voi nel momento in cui scaricherete l'applicazione. Allora, siamo, eh lo vedo, il bacino comasco, questo. Vediamo un pochino, in questo caso cosa vediamo e sentiamo anche qualcosa. Sì, vi faccio ascoltare l'introduzione, all'area che riguarda Como, in buona sostanza. Introduzione Benvenuti Benvenuti sul lago di Como. Tra Como e Tremezzo si trovano le opere più note del razionalismo italiano, l'importante corrente dell'architettura europea che si è sviluppata in Italia tra gli anni 20 e gli anni 40 del Novecento. A Como si trovano numerosi edifici realizzati dall'architetto Giuseppe Terragni, quali la Casa del Fascio, il Monumento ai Caduti, il Novo Comum, la Casa Giuliani Frigerio e l'Asilo Sant'Elia. A Cernobbio è possibile vedere Casa Cattaneo, una delle più note realizzazioni dell'architetto Cesare Cattaneo. Potremmo stare qui già ad ascoltarla tutta, invece no, bisogna scaricarsela. Ricordiamo che dobbiamo scaricarcela. Chiedo alla regia di abbassare il volume perché poi abbiamo eccezionalmente microfonato un iPad, cosa che non succede mai, quindi anche per noi è una cosa molto carina. In realtà, veramente, ce la scaricheremo tutti e ascolteremo, perché avete prodotto tanto materiale raccontando effettivamente tutte le perle razionalistiche del nostro territorio. A chi è destinata, Davide, questa applicazione? Chi ti piacerebbe, in qualità di sviluppatore, che la scaricasse sul suo tablet, sul suo telefono? Beh, diciamo, sia cittadini che turisti. In particolare, con questo intervento, speriamo di raggiungere rapidamente insegnanti e albergatori, quali poi, a loro volta, potranno veicolare l'applicazione ai propri studenti, nel caso di insegnanti, o ai propri ospiti, nel caso degli albergatori. È vero, questa è un'idea bellissima, perché diventa una cartolina virtuale anche per tutti i turisti che raggiungeranno le strutture alberghiere. Insomma, l'hai detto, c'è anche la lingua inglese? Inglese, italiano e tedesco. Eh, inglese e tedesco, capite che una volta che arrivano in città, si mettono comodi nelle loro stanze, venisse segnalata la presenza di questa applicazione, insomma, si inizia a dare una bella infarinatura sul nostro territorio. Sì, può essere un ottimo complemento alle visite guidate che organizza regolarmente il comune di Como per il quartiere razionalista, ad esempio, oppure lo staff dell'antiquarium di Ossuccio per quanto riguarda le visite all'isola Comacina con le case per artista realizzate da l'architetto Pietro Lingeri. Esatto, visto che sono curiosa e il fatto che ci sia il tablet ci rende anche molto più semplice e immediato per i telespettatori capire che tipo di lavoro hai fatto. Vedevo prima, mentre ascoltavamo la voce, insomma, che giravi un po'. Facci vedere come funziona l'applicazione, anche per vedere visivamente come si può navigare all'interno. Se uno sceglie di navigare utilizzando le varie mappe può spostarsi da una mappa all'altra. In questo momento mi sono spostato nell'area della Tremezzina, voglio andare a vedere le case per artisti. Case per artisti. Ed ecco che il nostro Luca Grandelis, lo speaker per la versione italiana, racconta la storia corredata ovviamente da fotografie che dicendo arrivano da archivi, giusto? Esatto. Io trovo anche che possa essere una bellissima idea per gli studenti, perché immagino il momento in cui lo studente all'interno dell'ora di storia dell'arte dovrà scontrarsi o scontrarsi tra virgolette, insomma, affrontare il periodo del razionalismo è un bellissimo modo anche per imparare effettivamente in un modo più divertente, ha valore assolutamente didattico anche per i ragazzi, secondo me. Credo proprio di sì e diciamo che la ricaduta culturale di questo tipo di prodotto che potrà avvenire, che mi auguro anche personalmente potrà avvenire, di avere un maggiore rispetto per i monumenti, gli edifici razionalisti che abbiamo in città e comunque sul lago. Se ne parla tanto del fenomeno dei graffiti, esempio sul momento e caduti, ecco, se i giovani attraverso questo tipo di lavoro educativo avranno maggiore rispetto per i monumenti, insomma, avremmo anche guadagnato qualcosa in più, insomma. Esatto, tutti quelli che sono andati a fare questi lavori come dicevi te, direi assolutamente incivili, adesso si rendono conto, visto che gli viene spiegato che cosa hanno toccato, magari un secondo pensiero su rifare queste azioni terrificanti magari gli può venire. Cosa ti ha colpito personalmente invece del razionalismo? Devo dire che mi sono appassionato all'argomento perché ho fatto personalmente i sopralluoghi nei vari edifici, nelle varie ville, perlomeno quelle aperte al pubblico e ci sono vari aspetti che in effetti mi hanno colpito. Ad esempio, è raccontato nell'introduzione della guida c'era una certa amicizia tra gli architetti del gruppo 7 insomma dei gestiti razionalisti del nostro territorio e i pittori astrattisti del gruppo insomma si conoscevano si influenzavano a vicenda è un aspetto che gli storici conoscono però forse poco conosciuto dal pubblico insomma. tutto riportato all'interno dell'app anche questo riportato nella guida insomma monumento preferito razionalista così a gusto tuo ma mi ha colpito molto il nuovo comum perché Giuseppe Terragni che l'ha che l'ha progettato ha veramente avuto un'audacia secondo me incredibile nel farlo perché aveva pensa che aveva presentato alla commissione di l'izio un progetto completamente diverso allora quando venne poi inaugurato questo monumento questo edificio riscò demolizione venne nominata una commissione per stabilire se dovessero demolirlo certo per fortuna non è successo è per fortuna e lo diciamo in zona stadio è praticamente l'edificio quello con gli angoli smussati perché c'è una parte vero mi confermi è quello con gli angoli smussati tranne l'ultimo che fa l'angolo vivo penso che tu lo stia tentando di recuperare sì eccolo qua e allora per fortuna che è andata così un'ultima cosa perché voglio capire eccolo eccolo qua ce l'abbiamo in mente tutti è in zona via Rosselli proprio stadio proprio di fronte allo stadio Sinegaglia esattamente se i prossimi passi i prossimi progetti legati a questa applicazione come dicevi giustamente prima fa parte del progetto Ecolarius gestito dalla provincia io ne sono l'incaricato lo sto facendo al meglio speriamo insieme ai miei collaboratori e i prossimi passi prevedono il prossimo aggiornamento immediato diciamo pochi giorni l'introduzione della localizzazione nell'applicazione in buona sostanza il visitatore potrà vedere la propria posizione sulla mappa immagino un percorso nel quartiere razionalista un gusto di isola comacina a piedi e uno ha maggiore possibilità di orientarsi lungo il percorso e non solo poi sempre su incarico della provincia verrà realizzata la versione Android di cui parlavamo prima e verranno resi disponibili in formato podcast quindi dei semplici mp3 scaricabili gratuitamente le tracce audio nelle tre lingue della guida quindi anche chi non ha uno smartphone o un tablet potrà ascoltare i nostri contenuti beh lo trovo comunque un ottimo progetto che nell'immediato avrà tanti ulteriori sviluppi io ricordo che per ora per tutti i possessori di iPhone e iPad si va e si inserisce solamente Razionalismo poi esce il nome completo Razionalismo in provincia di Como www.razionalismo.albegor.com comunque per andare ad avere tutte le informazioni 30 secondi che dobbiamo lasciare la linea e l'informazione dobbiamo completare abbiamo dimenticato qualcosa? beh c'è anche l'ulteriore ampliamento del progetto sempre la provincia pensa di attivare un servizio di noleggio di audioguide presso l'ufficio di informazioni turistiche di Como oppure presso l'Antiquarium per dare in questo modo un servizio a 360 gradi dedicato al razionalismo pronti per Expo 2015 ma non solo perché l'applicazione rimarrà ovviamente gratuita e scaricabile nei prossimi anni insomma e allora io ti ringrazio per averci parlato di un progetto bellissimo a cui hai dato vita dunque questa applicazione che ci rende orgogliosi delle perle razionaliste del nostro territorio magari per tutti i progetti futuri per tutti gli sviluppi e così ritornerai nel nostro studio e ci aggiornerai via via io ti ringrazio intanto questa sera è stato con noi Davide Orlando e dunque spero di ritrovarlo presto ma devo ringraziare anche tutti voi perché parlando di argomenti tanto belli il tempo vola maggiormente siamo arrivati al termine allora anche di questa puntata adesso dobbiamo separarci per l'informazione come sempre vi ringrazio e vi aspetto domani sera alle ore 19 puntualissimi arrivederci ciao